Reves Under 21, campione d'Italia, la squadra di football americano si iscrive per la prima volta al campionato Under 21 e vince lo scudetto di categoria al termine di una stagione, io c'ero sia a Bologna che a Milano, senza sconfitte, 9 vittorie su 9 partite, facciamo un bel applauso. L'applauso glielo volevamo fare anche perché oggi il Presidente ha preso la sua seconda laurea. Quanto ha preso? 105. Un applauso. La loda glielo abbiamo noi. Noi abbiamo l'onore di avere oltre a Marco e anche il Presidente qui con noi, c'è anche il Babbo, tuo Babbo, che è, io non ho bisogno di dire chi è, Rossano Brazzi, tre campionati del mondo ha vinto, quanti italiani? 7 italiani. Un bel applauso anche a Rossano. Kevin Calia, campione italiano Moto3, nonché immolese, questo ci dà grande lustro e ci rende veramente fieri di te e anche emozionati. Con pieno merito e titolo, 6 vittorie consecutive nelle otto gare, quindi non siamo a 9 su 9 come i Ravens, ma siamo a un grandissimo livello. Primo campione nella storia della Moto3, un italiano, un immolese, un applauso a Kevin. Quest'anno dove correrai? Campione italiano Superbike. Facciamo un grande boccalupo, un grande applauso a Kevin. È venuta a loro l'idea di fare un gemellaggio perché sono due realtà considerate troppo spesso come, passatemi il termine, non hanno l'attenzione di fondi economici purtroppo che spetta queste realtà, però rimboccandosi le maniche, facendosi, scusatemi il termine, un mazzo così perché tutti i giorni sono andato a vedere sia gli allenamenti dei Ravens che Kevin e questo weekend, ringrazio Mattia Grandi che è l'addetto stampa di Kevin, mi inviterò sicuramente a vedere perché so che lavoro c'è. Anzi, mi viene in mente che qui abbiamo un altro campione immolese che invito, vieni Mattia. Mattia Cassani, cosa farai tu quest'anno? Perché ti ho visto fra il pubblico e ho detto due parole ce le devi dire perché è un campione anche lui immolese, cioè noi siamo qui per valorizzare le persone, i campioni di Imola. Io farò il campionato italiano 600 stock, siamo anche noi qui a provare tre giorni. In bocca al lupo Mattia Cassani, c'è lo scambio dei caschi a suggellare questo gemellaggio fraterno. Un applauso. Allora signori, con la speranza che il prossimo anno sia un anno di successi sia per il football americano e quindi per i Ravens di Imola che per i campioni qui presenti Kevin e Mattia. facciamo un brindisi, bevete, mangiate, mangiamo, festeggiamo. Un applauso a tutti, grazie di essere intervenuti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.